chiacaccazione tre ma questo favorizzo tu lo sai? questo mi aiuti al pazzo vado a venire da un francesco eccomi qua Sto qua, sto bene. Ma che fai, non c'è, non c'è, non c'è. Ah, è stato lì? Eh, sono lì. Scusate, scusate. Mi è successa una cosa molto strano. Sì, sì. E qui se qui tu fate la cazzola... Ma va a dire Maurizio? Eh, se non fate la cazzola, ma è un casino. E qui fate la cazzola, ma è un casino. E qui fate la cazzola. E qui fate la cazzola. Ma che fai? No, ma questa cazzola qua. Voi che sapete qualche cosa. No, per esempio, che la cazzola salita là. Eh, diciamo che la canzone era di propesta. Era una bella canzone. Boh, bambola. No, che la cazzola bambola che canto. Questa qua è una canzone scritta da me. E la canto io. Io non c'è che so cantando le melodie. Io sono cabaretista, però... Ma voi che siete della zona. Voi sapete individuare chi sei la prese? Mi hanno fatto... No, no, aspettate. Mi hanno fatto dei nomi. Come si chiama? Enzo Viscardi e Michele Guarino. E chi lo vuoi? E come si chiama? Adesso forse Michele. Perché Michele fa la roba, cosa ricordi cosa. Non c'è stata la capa, chi lo fa la chiappa, ricordi cosa. Ah, chi lo fa la chiappa. E tu vieni a rambi due. E tu vieni a rambi due. E i rambi due, ci sono tutti i rambi. Non so, io devo fareci due colore nuovo perere. E vieni a casa che i tengono, e i rambi vengono a guardare. E tu vieni a rambi due. bello, noi è un mio dico. Vieni a rambi due, è un mio dico. E vieni a rambi due. Che è il mio dico, dote è un mio dico che ci vorrebbero, a mani saliare io. E vieni a Rambi due. Vieni a Torilla. Ma io non è un giovane. Non è sempre un giovane, un domino. La parola, parliamo a noi. Io vi ho chiamato perché la canzone Mi serve di urgenza. Io devo incidere questo sito, questo 45 giri. Come faccio? Facciamo 60 giri, 80 giri, 90 giri. Sì, allora facciamo un'altra cosa. Facciamo un'altra cosa. Facciamo un'altra casa. No, obbliamo. Ho visto uno che girava e disse adesso la Francesca, però non può essere perché... E' un'altra parte di giro, no? Eh no, perché sono veramente i bambini che girano, vedete che vi ho chiuso, è una stessa offesa, forse, perché voi donne che giravate. Stiamo cercando di girare, ma ci fate di girare voi. Eh, tu giri proprio come... Eh, sì. Vabbè, comunque, sai ragazzi a dire, io vogliamo un abogato, vogliamo un altro là, perché nel parco c'era anche un altro Francesca, un altro ragazzo, un amico vostro. Vabbè, lui, vedi un po' di sacazzola, che fine fa? Va bene? Sì, sì. Ok. Arrivederci. Stavolta, il vostro moglie, gli figgi? Sì. Stavolta fatto. Sì, si deve avericciuto. Arrivederci. Sto.